Hello ragazzi salve a tutti e bentornati su Cadence of Hyrule per chi non si ricorda ormai anche vi direi 4 anni fa circa avevo finito Cadence of Hyrule che è questo gioco Cryptos Necrodancer però fatto nel mondo di Zelda quindi una specie di crossover con Zelda molto molto carino tra l'altro tipo stavo ascoltando le host qualche mese fa e tipo erano tutte incredibili ma perché sono qui oggi? perché se vi ricordate io avevo trovato una sezione di gioco che poi ho scoperto essere il DLC che riguardava Majora's Mask solo che l'ho schippata completamente dicendo ok la farò dopo non l'ho più fatta e dato che ce l'ho lì scritto da anni ormai direi che è ora di chiudere questa cosa ora la questione più che altro è come funziona? come non mi ricordo un cacchio come si gioca? fermi l'ho trovato raga una modalità nuova cioè devo fare una cosa nuova un file nuovo poi mi ricordo di esserci entrato dal gioco comunque abbiamo due DLC in realtà c'è la sinfonia della maschera c'è anche Odeo Octavo Octavo era in teoria il nemico del gioco che poi vabbè non penso che fosse il nemico del gioco era quello che avevano trovato per terra che era lì morto non dovevo andare lì e vabbè ci sono un botto di modalità sto guardando però noi faremo a sto punto a sto punto siamo Odeo Octavo storia alternativa giocando nei panni di Octavo e poi abbiamo anche quello della maschera perché sono più DLC infatti nella cosa qua erano compresi i DLC non c'è scritto quali sono ma dovrebbero essere tipo 2-3 DLC credo siano 3 inizia partita non mi ricordavo io mi ricordavo di essere entrato in una porta ogni mondo ha i loro i loro non mi ricordavo e quando i potenti che non si trattano a combattere qualcuno deve riuscire a la possibilità a fare quello che deve essere fatto ok ok si era molto va beh era molto basilare la la trama del cadenzo firewall il mio figlio ridammelo canaglia non che cambi poi molto non serve nulla a combattere il proprio destino finalmente libero dai vaneggiamenti di quella vecchia strega ora devo trovare un campione in grado di sconfiggere Ganon questo liuto d'oro mi aiuterà a difendermi durante la ricerca ok potrebbe essere una cosa contemporanea senti lì ok non ho più la spada non ho più niente il tempismo è sempre quello ci facciamo che si è andato a rompere ehi là questi sono i bobling che cacchi sono quelli grossi però ok non so se andavi lì ci sono tutte le robe da spostare anche le statue eccetera ecco ah beh questo è un nemico posto come non detto e queste queste sono da attivare sulle cose shaker voglio vedere se posso tipo si ma se le sposti contro il muro non fai più eh non funziona io te lo dico aspetta questo è quello che ha messo capo i miei amici ho visto come combatti con quel liuto d'oro ogni volta che ti sposti in una casella decente di un nemico questo riceve dei danni puoi inquisare il liuto per attaccare i nemici direttamente di fronte a te ora che ho capito come combatti devo solo trovare qualcuno in grado di fermarti allora aspetta perché io voglio provare a metterla sì ma non serve a niente non credo che serva qualcosa non serve a niente neanche buttarle giù sto pensando perché queste qua mi pare che potessi sederci sopra ma non penso mi serva bene andiamo avanti boia le bombe no quelli sono i bobbling grossi quelli lì piccolini sono i bobbling ma cos'è che detono ogni tanto fai fuori senti lì i cachi che bellezza va bene deck tight cioè quanto era fatto bene quanta cachi era fatto bene frammento di cuore che non mi da nulla perché è un frammento ok allora cerchiamo cerchiamo di di completarlo per bene perché quell'altro l'ho fatto di merda e in mappa abbiamo quello che credo sia nell'icona la statua sheika e il negozio probabilmente quello verde è il negozio quindi qua abbiamo quel robo viola che dovrebbe essere qua dentro il robo viola è lo shop devo cercare di ricordarmi anche quello eh no ho sbagliato non volevo comprare roba cosa ho comprato difesa p05 scatto sicuro che un nemico sono fitto questo è il teletrasporto c'ho il luto luto d'oro per teletrasportarmi ok teniamo la mente voglio capire più che altro oh guarda c'è il gigante anche mi sa che ha detto un'era da solo però forse non ha non ha il danno mi ha ammazzato va bene goblin rosso si chiama questo è per per causare un porta cuore li posso comprare qua questi sono sono per sempre riportami qua ah no ok posso andare solo dove mi son già mi son già salvato il luogo e devo rifare tutti ok oh quello non attaccava si però devi rifarli tutti non c'ho voglia vai vai passate pure io me ne vado serve qualcosa rifarli tutti che poi tipo ho visto che c'è una modalità c'è una modalità perma death cioè se muori hai perso non c'è il recupero della roba però il fatto è ammolito le tesche ok i minimo sono ancora sconfiggere ti saranno rilevati sulla mappa ed erano le statuine che ho visto anche nell'altro che non ho fatto attiva la pietra ok questi non si capiscono vero quali sono vere non se di no tu 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 Terry se dire in total per ricavare i diamanti dei mostri se ne raccoglie abbastanza peggiori per comprare qualcosa qui da me eh ne ho uno un'ampolla c'era qualcosa mamma mia bellissimo cacchio si lì c'è Terry qua abbiamo un'altra pietra già mi rileva tutti i boss ma sono tantissimi raga ma cacchio ma è un altro è un altro gioco perché ho ucciso un pollo non si attaccano mai cocco regola numero uno per la buona sopravvivenza d'Airon tu 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 i demon miei continuano ad attaccare ma ammazzano ma ammazzano aiuto ma anche i po ragazzi ho già quattro tasselli sono già morto due volte ci sono tutti i puzzle vedete anche qua no questi sono tutti i puzzle da risolvere per appunto per trovare la roba si ma bravo Eric è quello? è difficile è difficile perché appunto c'è il fatto di essere morto già due volte non è il massimo però devo capire bene i tempismi è quella la questione aspetta allora se lo mando contro il cespuglio forse ce la fa aspetta un po' era più semplice del previsto voli sopra ah ok ho uno spazio in più va bene eee non credo di aver capito cioè sono morto perché ovviamente bisognava risettare quel coso lì per come si chiama bisogna risettare il il piano e sti cacchi di polli continuano ad uscire fermi eh guarda per vedere c'è un modo per la mappa no più velocemente no ok quindi abbiamo detto quello è lo shop quello è uno shop quello è Terry questo l'abbiamo fatto qua sotto perché è sbloccato perché sono andato a casa ok ma io c'ho la palla per colpire c'è un Deku guarda lui lì bastardo è la palla è cioè oddio non credo che sia buonissima no non è la palla per colpire è il Luto che che manca ah lui ok il il discorso purtroppo è che a volte non conviene colpire anche nei nei blocchi a fianco non conviene colpire nei blocchi a fianco perché rischi di di non colpire il nemico tipo la cioè l'Armos come si chiama c'è un segreto per caso vedete di dare qualcosa credo che queste siano a fonte fatte radiosi ma perché è la tesoro vediamo di tirarti un po' su grazie mi è servito molto però grazie mille un po' un po' di cose me le ricordo ed è segnato dalla fatina understanding lì c'è un boss se vado a a destra si tectite maledetti quindi giù viene i little force bisogna stare attenti perché tirano dritto ok ognuno c'è un team pismo raga ci sono chiaramente i nemici più semplici che vanno a dritto cioè ti fanno un attacco ogni sei mesi e poi ci sono i nemici quelli ovviamente più forti che fanno attacchi a casa si ma io qua perdo la pala con mending attenzione fatemi rompere la pala ma qua non c'è un cacchio vado giù senti lì non ho capito cosa è successo piano sta roba che ognuno ogni cosa c'è un tempismo per me è incredibile questi posso ammazzarli certo che posso ammazzarli ora cerchiamo di arrivare lì sopra per arrivare lì sopra con quell'altro potevo sollevare roba ok allora mi servivano però gli stivali cioè quegli stivali lì sono obbligatori è un po' come la bomba lì sopra aspettano qua devo entrare in un altro modo questo qua crolla cioè si spacca no bomba bravo Eric dai una cosa non dovevi fare farti esplodere qua non c'è tempo quello si muove come mi muovo io dobbiamo farlo scendere che bellezza sti cacchi di puzzle quanto 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 mamma mia vai però devo cosa devo fare devo scavare il buco devo farlo andare di là no io non vado di là oh madonna santa è morto forse non dovevo ammazzarlo buh va bene così c'era solo per avere delle rupie non mi segno un cacchio lì vabbè sarà ma qua è chiuso ma qua è perché è chiuso sta roba no non devi tritasportare sono io sono però veramente a volte mi chiedo quanto posso arrivare in basso prendo un altro portacuori che non si sa guarda lì che imbecille cioè ho perso tutta la roba ho perso tutto vero certo che ho perso tutto porca macca ma io sono veramente un imbecille ma forse si passa da un'altra parte sai che si passa da un'altra parte raga quindi andiamo di qua anche se a sto punto che poi sta roba del passare da un'altra parte mi ricorda quelli sono quelli che ti mangio lo scudo tra l'altro del passare da un'altra parte mi ricorda come si chiama link to the past che certi passaggi non potevi farli subito ma dovevi fare prima un'altra roba ho perso gli stivali allora fermi però come faccio a prendere quello ho visto che ho fatto qualcosa prima con lo stivale qua con questo ingranaggio però l'ho perso io l'ingranaggio era lì sopra quindi come famo? non famo il fatto è che adesso mi scasina anche la mappa però lui o partiamo da sopra ritorniamo sopra che chiaramente si l'ideale sarebbe non morire grazie al cacchio ma era che mi sono rifatto tutto il pezzo va bene no 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 non c'è bisogno di teletrasportare chissà se teletrasportando ti perdi roba piano quelli grossi per cioè perdono la lancia e poi la vanno a recuperare ma come attaccano vieni qua è tight ho recuperato un po' di diamanti abbiamo un po' di rupie ci sta ecco non ho capito cosa ho preso però devo stare attento anche a quelle esplosine lì sono quelli con un occhio fuori che si svegliano adesso che li guardo nooo sbaglio sempre ho incantato l'arma in che senso aspetta scusa ah lì non c'era niente ok è più forte non ci salgo di cacchio di danni faccio guarda guarda l'Izora gli Zora cattivi stai qua dove vai da giù eh mannaggia lui dove cacchio sono? ero sopra allora ok ci sono l'Izora cattiva madonna è pieno di gente allora le bombe le piglio anche se siamo al massimo quindi non mi servono un cacchio un cuoricino se non fai mai male sbaglio sempre il tasto fa ridere perché sbaglio il tasto per cosare e per tornare indietro con B incanto l'arma e quindi spreco quella roba là guarda lì chi è che è ghiacciato qua? sai quanto vuole l'incantamento? ok chi è? ah c'è un coso là ma forse si può armi perforanti o difesa plus armi perforanti meglio bombetta cioè è tutto così bello le musiche ma anche il gameplay cioè è fatto con una com'è che posso dire? cura nei dettagli dei nemici dei personaggi ma porca vacca io non me lo ricordavo così sincero me lo ricordavo difficile quello si ok grazie guarda anche lui che gira occhio al pollo qua cioè vedete tipo non me lo ricordavo così bello veramente allora fermi qua c'è un bossettino in teoria ma io io quello me lo ricordo quello mi ammazza raga aiuto non ha voluto sapere delle bombe ok perforante o furtività no ma che cacchina ne faceva furtività a cosa dovrebbe servire no non me li ricordavo nei mini line però cioè suppongo che c'è un botto di roba a vedere quello che hanno messo eee per c'è uno scrigno qua per dire per me mi serve qualcos'altro oggetti più duratori beh non è male armi perforanti è meglio perché qua non ci sono nemici perché ci sono già stato io qua è proprio quella zona lì no ma non c'era uno scrigno allora qua praterie deserto alture cosa cambia ok mazza sti rovi te cosa fai lizafoss dov'è non so come causarli quelli non non c'è da contrastarli eccolo lì eee ora dovrei tirare giù quel pezzo per tirare giù quel pezzo per tirare giù quel pezzo cioè fare tutte le cose aspetta eh fare tutte le cose una volta che hai eh no infatti non c'è una volta che hai hai ripulito l'are è meglio è perché ho paura che mi rispedisca l'aggetto di là forse questo non dovevo farlo non dovevo farlo l'ho spinto contro il muro se no da sopra no va bene anche così e qua devo sempre comunque passare da sotto non c'è modo lì allora riportiamoci la sopra non sto tornando più stato eh oh vedi che adesso qua è molto più ripulita come zona anzi ti dirò di più andiamo a farci una ricarichina se può la signora grazie evitiamo di perdere di nuovo i progressi grazie perché cioè farlo con tutta l'area ripulita è molto più comodo guarda a caso ma l'avresti mi detto però qua non si va di là devo passare da sotto ok vabbè a questo punto puliamo anche se le zone volevo farlo un po' in ordine ma fa lo stesso ma dov'è quello? ma in acqua sei? dai vieni qua cosa stai facendo? non possiamo incontrarci lui non credo che possa arrivare là sto scherzando guarda anche perché così togliamo il tempo oh c'è un coso anche c'è uno anche lì sopra questi sono infami eh oh che devo fare si è messo in mezzo eeeh ok una volta che ho fatto questo posso spostare questo punte perché meno è dell'elettricità ok forse per far più danni fa più danni a qualche qualche nemico boh ma loro? il monte è morte questa roba c'era anche nell'altro è sicuro? sono proprio sicuro perché immagino essere talmente tanto forte da sfruttare anche no forse non non conveniva da sfruttare anche i i pulsantini quindi sei così facile cambiare il proprio destino? se solo vedessi che matasse ingarbugliate è il tuo futuro un grandesimo urgenza altrimenti che ha segnato R solo ottavo può usarlo puoi dare l'idea è di spostarsi e agire senza dover tenere il ritmo l'effetto svanirà dopo qualche battito non ci sopravvivo schifo non fa andiamo vabbè ma se vado in acqua serve resistenza che sarebbe la l'azzurra ma io qua non vado da nessuna parte comunque che cos'è che era quella la media poi là sopra c'è c'è un portacuore infatti mi perde il roba ma è una rabbia qua è bloccato si ma cacchio ma devi esplorarlo veramente hanno messo anche quella che bellezza hanno messo anche il fatto del perdersi in giro nel mentre che cerchi di di esplorare passi da quello non passi da quello wey ok parla del coraggio avanzi scavando avanzi scavando ok un po' di mana porca arpiozzo eccolo lì assegnare inventare agganciarti a certi oggetti e tirarti verso essi anche estordendo nemici e questo mi ricorda che avevamo lasciato quella roba indietro in teoria mi ha lasciato quella roba indietro che non sapevo come arrivarci ma più che altro io stavo pensando una cosa io ho comprato coi diamanti dei portacuori però non mi indica nessuno scrignola però volendo posso passare da sopra aspetta mi sa che adesso la sopra possiamo attraversare il fiume usando l'arpione allora ci ha detto dal menu quindi io da qua posso assegnarlo per esempio alla D che mi toglie le pergamene che tanto non non uso sotto ancora bloccato quindi non ci facciamo un cacchio sopra nemmeno però lì c'è quel passato ah no mi sa che non c'entra niente allora vediamo come funziona questa è una bomba eric per carità eh ho spostato il robo quello è il nemico fuckers ma scusa ma scusa allora attaccarmi a cosa a cosa mi attacco a niente e ne vado non si passa raga non si passa di lì come ho non detto sotto è chiuso lì era chiuso però aspetta la potevo allora questo l'abbiamo visto qua posso qua non c'è niente vero no e poi chissà se il mondo è uguale non abbiamo salvataggio posso andarci in acqua forse agli alberi ho capito agli alberi posso chi rimane pieno e i barilli forse anche teniamo la mente teniamolo a mente barilli la ci arriva e la che cacchi di attacco ha fatto ma sono un grande che cacchi di attacco aveva fatto quello e questo per tornare anche indietro volendo e per arrivare lì invece per arrivare lì ho quel barile e non posso andare di traverso però eh occhio c'è qua mi cadì in acqua se mi giro sposto questo però da così lo sposto in acqua scusa scusa puoi tornare dove eri grazie allora uso quello per andare tac tac il cacchio prima almeno era bloccato dai robie dal l'izzalfoss ma sapete che sono veramente complicati questi cacchi di di puzzle non mi viene in mente niente raga bello questo non mi viene in mente niente perché se mi lancio da qualsiasi parte muoio quindi non posso farci nulla questa è un'altra area è quella di fianco che ha lo scrigno ci sarebbe un altro pezzettino lì però è una collab tra i due pezzettini però io quello non lo piglio perché con l'altro c'avevo il fatto di poter sollevare un qualcosa è un qualcosa